Ciao a tutti, benvenuti. Oggi parliamo dei cambiamenti, del livello di maturità del mercato online e per farci sopra ovviamente della gustosa grana. Quindi mettiamo il telefono in silenzioso, aspetto che si connetta qualcuno, mi raccomando. Il primo che si connette mi dice solo se l'audio si sente, se è tutto a posto. Nel frattempo vi illustro un attimino il percorso che vorrei fare stasera. Vorrei parlare assolutamente di quello che sta accadendo e quello che probabilmente accadrà nel futuro per quanto riguarda la vendita online, del mercato online. Non sto parlando esclusivamente di vendite su internet, ma è quello che è il marketing online che parte dall'online, poi come si sviluppa un altro discorso. Però parliamo di questo. Volevo cominciare anche un attimino a farvi vedere com'è, come sarà l'Academy che sto sviluppando, sta avendo una cosa bellissima. Sto testando varie cose che poi ovviamente riporterò tutto a voi. Quindi quando vi connettete ditemi se si sente l'audio per favore e poi andiamo avanti. Aspettiamo ancora che arrivi qualcuno. Questi minuti di attesa io parlo perché in realtà poi quando le persone vedranno indifferita, oppure sentiranno il podcast perché sto pensando di farci un podcast. Quindi se stai sentendo il podcast è perché ho deciso di fare il podcast. Comunque dovranno prendersi anche questa parte. Quindi nel frattempo comincio anche a parlare e a dire qualcosa di giusto. Ragazzi allora ditemi solo se si sente. Ok, perfetto, si sente. Ciao Francesca. Quindi abbiamo un livello, ne parlavo proprio prima con un collega, abbiamo un livello di maturità del mercato online che oggi è diverso da quello che potrebbe essere già solo quello di due anni fa. Per esempio, due anni fa, tre anni fa non si poteva parlare di certe cose, no? Guardate un po' com'è cambiato il tutto. Oggi per dire l'argomento di punta sono i funnel, se parlavi di funnel, discutevo proprio poco fa con un collega, se parlavi di funnel tre anni fa venivi preso per scemo cos'è un funnel, no? In realtà oggi il mercato è già posizionato su, cioè è molto maturo nel senso che le persone sono già pronte a utilizzare certi strumenti, certe strategie per portare vendite in più a quello che già fanno, oppure per costruire business che sono praticamente, che partono in toto dai social. Il social selling è una cosa di cui non parla nessuno, se la senti la senti nominare da me, e il social selling è praticamente l'arte di tirare fuori grana partendo dai social, in sostanza, quindi vendere, creare una strategia di marketing che parte dai social network e poi si sviluppa in vari modi. Quindi oggi si parla del social selling, io sto facendo questo grosso lavoro di divulgazione, ma fino a due o tre anni fa la parola poteva essere desueta, nel senso cos'è il, neanche desueta, nel senso proprio non riconosciuta, cos'è il social selling, non esiste, il social selling è come il molise, non esiste, no? Allora ragazzi, la cosa bella è che oggi il mercato ha una maturità nuova, nel senso che le persone sono più abituate, sono più dinamiche con i social, sono più dinamiche con il web, il web cambia velocemente, le persone si stanno adattando di pari passo. Fortunatamente oggi il mercato online, anche di acquisti online è buono, le persone comprano online, si creano relazioni online, insomma, si è creata la macchina che magari dieci anni fa in America già funzionava bene, qua in Italia era proprio completamente immatura. Quindi la maturità del mercato oggi comincia ad essere rilevante e la cosa fantastica è che in Italia siamo a un livello di lancio del mercato online e quindi il fatto di essere in prima posizione c'è avvantaggio, nel senso che chi farà le cose adesso, ragazzi, come dico sempre, basta guardare i costi Facebook, sapete quanto costa oggi fare inserzioni, persone dicono, eh cavolo, ho un costo per lead di 2 euro, ho un costo per lead di 10 euro, ragazzi, posso dire che adesso stiamo pagando poco di lead, è pochissimo. Per dei miei clienti spendo anche 10 euro a lead, però la qualità del lead non si discuta, non è un prezzo, è ovvio che se un mio lead oggi lo pago 10 euro e ho un prodotto che mi fa marginare 3 euro e non ho nessun upsell sopra, quindi ho un profitto retto di 3 euro, sapendo se se pago il lead 10 sto andando in perdita, no? Questo è ovvio, ma vi posso assicurare che più le persone adotteranno questi sistemi, quindi cominceranno a fare vendite partendo dai social, quindi investiranno in pubblicità, in advertising sui social, i prezzi aumenteranno, aumenteranno ancora, quindi è adesso il momento di fare il fondamenta, la fondamenta, gettare le fondamenta, creare la base per un lavoro futuro, perché è quello che succede in America, si ripropone in Italia, ragazzi, non c'è niente da inventarsi, è proprio così, quindi fondamentalmente è oggi che devi investire, ok? Oggi che devi investire devi farti la tua formazione, devi farti le tue strategie, ok? Oggi le devi testare, perché le teste a un prezzo più basso. Il livello di maturità del mercato oggi è arrivato al punto che le persone cominciano a fidarsi e a stringere relazioni che partono dai social, per dire, faccio sempre l'esempio di quello che faccio io, in questo momento io sto cercando di stringere una relazione con te, dandoti del contenuto che ti possa aiutare nella tua attività e nelle tue strategie di marketing e nel social selling, ok? Perché sei connesso adesso, il social selling è l'arte di vendere partendo dai social, quindi generare profitto partendo dai social. Lo facciamo come? Con una strategia che punta a fidelizzare le persone, nutrire le persone, educare le persone tramite dei format educativi, questa è la mia strategia, quella che io insegno nei miei corsi. Da poco ho lanciato le ads non servono ad un razzo, il corso è andato bene, l'abbiamo lanciato in più liste, ci sono oramai centinaia di persone che l'hanno comprato, è andato bene, ho avuto una richiesta di rimborso, però questo ci sta, solitamente la percentuale è più alta, quindi vuol dire che il corso è piaciuto molto, sono contento, anche perché poi estorcere il denaro a me non è facile, perché si va in fondo alla cosa. E soprattutto se scopro che le persone che comprono i miei corsi poi cosa fanno? Li vogliono scaricare per poi fare avere il rimborso, li banno completamente dalla mia lista, non gli venderò mai un razzo di niente, quindi in realtà è una cosa che non funziona. Ci sta, nel mercato succede, succede in tutto il mondo, abbiamo problemi di questo tipo da tutte le parti, però questo non è un vero e proprio problema, nel senso fa così, lo metti in considerazione, lo fai penare un po', lo banni, ci sono però, se no perché poi diventerebbero eventi ricorrenti. Ma tolto questo, che non è importante, il livello di maturità è quello di cui voglio parlarvi stasera, quindi se siete nella condizione in cui avete ancora un po' le idee confuse, ricordatevi sempre questa cosa, oggi il modo più facile per stringere relazioni di business con un tuo potenziale cliente sono i social network, ok? Anche se tu questa cosa non l'hai ancora metabolizzata bene, in realtà oggi è la possibilità di farlo e di farlo a un prezzo ridicolo, come dicevo prima, finché paghi i lead meno di quello che guadagni è ovvio che va tutto bene. Poi è chiaro che, come dico sempre, la tua big idea, il tuo prodotto servizio deve assolutamente darti parecchio margine netto, perché oggi si richiede sempre di più margine, perché se tu vuoi lavorare con questi strumenti devi avere margine, devi avere margine. Ragazzi, non si può fare se non si ha margine. Cioè, conviene strutturare il business oppure buttarlo via e rifarlo. Cioè, è inutile che ci giriamo intorno, è inutile che ci raccontiamo cazzate, è inutile che pensiamo, devi pensarci fortissimo, ci devi credere. Ragazzi, poi tu puoi credere a quello che cazzo vuoi, ma se guadagni meno di quello paghi il marketing della tua azienda, tu chiuderai. Questo è poco ma sicuro. Attenzione, non voglio dire che se tu hai un prodotto che ti margina poco, vuol dire anche che vai in perdita, nel senso che magari tu, cosa che dico spesso nelle mie puntate, se tu guadagni un euro, ok, per ogni vendita e i tuoi lead li paghi cinque, però poi upselli un prodotto che ti fa marginare, mi chiamano in questo momento, non posso rispondere, ti fa marginare comunque parecchio, quindi ti fa marginare duemila euro dopo, assolutamente va bene lo stesso perché hai upsellato e va bene, ok? Quindi tu puoi decidere che nel tuo front end di andarci in perdita, lo deciderai tu questo, però poi dopo devi essere in grado di upsellare. Quello che io vedo che succede molto sovente è che le persone vendono senza margine e non upsellano un prodotto che ha un alto margine di netto, di guadagno netto, quindi in realtà se la vostra condizione è questa dovete ristrutturare o cambiare business. Non ci voglio girare intorno, vi dico la verità, se voi veniste a una mia masterclass privata, questo vi direi, ve lo sto dicendo adesso, cioè quello succede, se volete fare una masterclass con me non c'è nessun problema, andate sul mio sito, prenotatela, bellissimo, però se semplicemente non avete margine risparmiatevi i soldi, ve lo dico proprio qua in diretta davanti a tutti, risparmiatevi i soldi e riprogettate il vostro business. Oggi il mercato ha un livello di maturità tale per cui ti può consentire di generare parecchi, 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 parecchi flussi di denaro senza stare lì a investire miliardi in advertising, quindi oggi se azzecchi va benissimo perché siamo in una condizione di mercato in cui le persone stanno prendendo fiducia e pensate che fino a quattro anni fa avevo dei problemi a vendere online perché le persone non lasciavano i numeri, cioè proprio non ce n'era nel lasciare i dati della carta di credito. Adesso si sono evoluti, hanno fatto le ricaricabili, quindi in realtà le persone investono già più volentieri, tanto non mi freghi perché l'italiano è un molto 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 diffidente. D'altra parte però se tu impari a vendere in Italia, impari a vendere bene online, quindi social selling ti consente proprio di creare quel rapporto che serve per costruire una relazione di business che ti genera profitto. Le persone oggi si fidano, si fidano dello strumento web, dello strumento social, quindi la tua strategia è giusto che parte da lì, ma sempre ricordandoti che devi avere un buon margine netto, cioè ragazzi lo ripeterò fino a morire, se non guadagnate da quello che vendete è inutile che cercate di fare marketing, non funziona, cioè devi avere margine, punto fine, perché quando hai poco margine devi buttarla sui numeri, ma se lavori online sui numeri significa molto più investimento, per fare numeri online significa investire, poi ci sono tecniche organiche virali, bla bla bla, sì, ci sono, ma ragazzi, cioè è più un casino fare così che cercare di fare le cose fatte bene, ok, cerchiamo qualcosa che mi faccia marginare e lavoriamoci su. Ovviamente ci deve essere un mercato e tutta una serie di cose che spiego bene sia nei miei video gratuiti, sia nelle ads non servono il razzo, che adesso è composto da due corsi in uno, va bene? Quindi se non l'avete fatto ancora compratevelo, è molto interessante perché ci sono anche i cinque passi fondamentali per guadagnare online, lì te lo spiego bene, ok, come funziona. Benissimo ragazzi, vedo che siete taciturni stasera, cosa avete fatto? È stato questo weekend che vi ha stremato, vi vedo tacenti, volevo parlarvi anche dell'Academy, ok? Siamo arrivati al momento di poterne parlare un po' di più, l'Academy, come dico, come continuerò a ripetere, è un business completo, chiave in mano, ok, che ti consente di generare profitto, dai, ciao dai social, ciao Tiziano, ascoltiamo Dio. Ok, l'Academy sarà questo, quindi di base saranno otto corsi, ok, otto corsi completi, che ti consentono di iniziare un business o di riprogettare o di lavorare sul tuo business partendo dai social e portandolo a generare profitto, quindi da come si scrive una headline, da come si progetta un profitto 10x, da come tu potrai costruirti il tuo sito, cioè cosa dovrai fare passo per passo, come funzionano gli strumenti funnel, quindi come funziona il tuo funnel, quindi devi fare un tipo di lancio di un certo, fatto su un certo stilema, su un certo schema, ok, questo è, devi fare un lancio per fare un webinar, questo è già, pum pum pum, devi fare questa sequenza, devi scrivere queste cose, sarà tutto fatto nel filo e nel segno per farti capire meglio come poter progettare il tuo nuovo business oppure come riconvertire il tuo, dalla A alla Z, quindi questa sarà l'academy, ci sarà un super 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 bonus per chi se la prende prima, ok ragazzi, il valore non è che il valore, il valore vale un casino perché sono otto corsi che io venderei a un ciulo, non so se si usa il ciulo, io li venderò a tanto e nel complesso però vendrò questa academy a mille euro, va bene? C'è l'opzione di farla con me che costerà duemila, one to one, quindi a livello anche di consulenza. Attenzione perché la bomba sarà che il bonus che vi metterò in mezzo, quindi chi non ha questi soldi non è in target per comprare questo corso, ok? chiaro che può continuare ad ascoltare tutte le mie dirette, però mettetevi da parte i dindi perché adesso, da adesso in poi, io venderò probabilmente solo più quel tipo di corso, quindi sarà molto bello ragazzi, vi consentirà di creare anche un business parallelo a quello che state facendo, ok? se quello che state facendo nel, facendo l'academy scoprite che non funziona, perché io sarò molto chiaro con voi, se quello che fate non funziona, ragazzi non c'è niente da poter, c'è la merda del cioccolato, non la riusciamo a trasformare, ok? Quindi la cosa che dobbiamo fare è al massimo metterci l'anima in pace, magari continuare con quello che stiamo facendo in quel modo, riprogettare un altro business parallelamente e poi probabilmente se riusciamo a superare e arrivare a break event, ciao vecchio business che non funziona più, oppure te li ritenete tutte e due, questo è, però tante volte ragazzi è solo da lavorarci sopra, perché guardate io ho di media 4-5 richieste di consulenza ogni tot giorni, no? La statistica è questa, e le richieste di consulenza che mi fanno, ragazzi girano sempre intorno alla stessa cosa, ok? Quindi è per quello che io ci ho creato dietro un corso, perché comunque quello che io dico nelle mie consulenze private alla fine è sempre, gira sempre intorno a certi pilastri. Mi sono detto, se io riesco a mettere la soluzione dietro queste cose, riesco a renderla pubblica per gli altri e li posso mettere in condizioni di crearsi una cosa in maniera autonoma dalla Z, quindi passo per passo, cioè da creare l'idea, da cercare il mercato, come si segmenta il mercato, come si interroga il mercato, tutta una serie di cose, le persone saranno molto più facili e sarà molto più facile che avranno risultati, perché gli do già le risposte che io in anni di consulenze ho collezionato, ma in un momento come questo, che il mercato è maturo, cioè nel senso è pronto, è per quello che devo farlo adesso, perché è il momento ragazzi, è anche il momento per voi, è per quello che quest'academy deve uscire ora, devo farlo anche per voi, e quest'academy parallelamente uscirà anche per quel business che ho degli odontoiatri, c'è bisogno di questo, c'è bisogno di questo assolutamente in questo momento, sapete che io vi faccio spesso, vi faccio dei sondaggi, no? In questi sondaggi ragazzi, io estrapolo, tramite le tecniche che imparerete nell'academy, estrapolo quello che serve e facendolo in più mercati, in più liste, con più persone, con persone che mi seguono di meno, riesco ad avere più o meno mediamente una statistica buona, per cui quando poi tiro fuori un qualcosa funziona, quindi non è che lo faccio perché sono un veggente, ma perché ho creato un sistema che funziona bene, questo sistema parte dai social e si chiama social selling, l'arte di spremere il social, ok ragazzi? Bene, tant'è che voglio dire questo, voi cosa fate stasera? Mi vedo taciturni, siete sfasati dal lunedì? Io ho un po' di robe da fare, stasettimana due consulenze, più una che ce l'ho ancora venerdì, che in realtà è una giornata di formazione, più sto tirando fuori FaceFast, che ho qua tirato giù i capitoli, FaceFast sarà pronto il 15, tra una settimana, impariamo a creare inserzioni che funzionano in soli 5 passi ragazzi, cioè 5, 1, 2, 3, 4, 5, fai inserzioni, non è il classico corso dove andiamo a sciabolare proprio, stanno tutto il business manager, prenderlo in mille pezzi e studiare l'ABC di qualsiasi cosa, di qualsiasi funzionamento, ho detto prendiamo il 20% di quello che funziona e mettiamolo a disposizione delle persone togliendo tutto l'eccesso, quindi ragazzi FaceFast, molti di voi che state adesso guardando l'avete già comprato, non dovete comprarlo più, attenzione perché ho avuto la grande idea di usare dei nomi creativi e poi le persone dopo due volte che non leggono l'email non capiscono più una fava, quindi ragazzi, tanti di voi l'avete già comprato, quindi attenzione, guardate quello, comprate le cose, lo so che io sono bello e simpatico e preparato e voi comprate qualsiasi cosa io butto sul commercio, però date un'occhiata a quello che avete comprato, se ve lo ricordate non l'ho comprato due volte, poi mi tocca farvi il refund ed è una rotola di palle, ok? Odio tornare indietro e soprattutto ridare i soldi, quindi attenzione. Bene ragazzi, mi raccomando per FaceFast belli carichi, siamo praticamente a meno una settimana, abbiamo il 15 alle 21, tanto manderò questa settimana tutte le comunicazioni e parleremo appunto, cioè c'è una sorpresa però nel webinar che ci sarà il 15 maggio alle 21, vi spiegherò nel dettaglio anche di cosa si tratta questa sorpresa, quindi oggi volevo parlarvi appunto di questo, della maturità nel mercato, ovvero che il momento ragazzi è buono, adesso bisogna spingere, pensate un po', vi racconto questa, un tempo l'obiettivo era avere un super, mega, gigante database e non ci si poneva il problema, l'obiettivo non era tanto di stringere una relazione, ok? Il problema era più lead ho, quindi più contatti ho nel mio database, più leads ho, più riesco a vendere, era matematica, quindi in realtà il tuo obiettivo era semplicemente nel lavoro online raccogli, raccogli, fregateli, raccogli e basta, quindi c'erano tool, c'erano trucchi, ti spingevo a cliccare con un inganno, tanto poi ti fottevo la mail, ok questo era il passato, nel presente siamo passati ad un'altra fase, quindi non si lavora più con mega liste giganti, ok? Come era una volta le centomila contatti in database, oggi devi coltivarti il tuo, la tua lista, te la devi coltivare con molta attenzione e piano piano creando un rapporto di fiducia, le liste di oggi sono relazionali, non sono più come un tempo, numeriche, ricordate che questa è una cosa importante, le liste di oggi sono relazionali e non numeriche. Ciao Barbara, come va? Sei sdraiata in uno dei tuoi stupendi materassi? Ragazzi comprate i materassi di Barbara perché lei è una mia fan, mi regala un materasso a mese perché sono simpatico e io non posso far altro che fare una grande marchetta, ok ragazzi? quindi ricordatevi di creare relazione, cosa sto facendo in questo momento? Sto creando, facendo un lavoro relazionale nei vostri confronti, vi metto qua la sera, parliamo, parliamo di social selling, vi aiuto, questo crea relazione. Non mi concentro più solo nel fare lista, è sbagliato, è sbagliato, oggi è sbagliato, si sta andando in un'altra direzione e chi utilizza quelle tecniche sta sbagliando. No, Marco Monti Montemagno no, così? Aspetta, eh ma neanche, dovrei proprio togliermi tutti i capelli. Niente, no, non ce la posso fare Daniele essere Montemagno, tra l'altro Marco Marco abbiamo scambiato anche più delle opinioni, anche sotto altri punti di vista, ma lui fa un altro sport. Lui ha lavorato, non è giusto o sbagliato quello che abbia fatto, non voglio dire questo, Marco ha lavorato sulla sua immagine, ok? Creando una marea, una caterva di contenuti e arrivando proprio al punto di dire è irraggiungibile, cioè non lo raggiungerà mai nessuno, è talmente top di contenuti, ma non ha lavorato sulla monetizzazione, ok? Non so se conoscete Van Alchack, ok? Il noto blogger americano che è partito da un'agenzia di vini, lui ha monetizzato molto meglio e quindi, benché lui abbia anche un'agenzia di media, ok? Lui ha saputo monetizzare. Montemagno ha monetizzato, secondo me, a mio parere, male. Lui ha venduto blogosfere, ha preso secondo quello che io posso immaginare una grossa fetta del guadagno che ha avuto quell'exit e ha investito su se stesso, perché comunque lui ci ha buttato un sacco di ciccia in quei video. Video ne ha fatti tantissimi, li ha tutti sponsorizzati senza un ritorno. Questo per me è sbagliato, perché bisogna monetizzare qualsiasi cosa si fa, sempre. Io stasera ho monetizzato in qualche modo, perché sto preparando la strada alla mia academy. Poi non è detto che tutti quelli che guarderanno questo video siano in target, non importa. L'importante però è fare questo lavoro, ok? Di monetizzazione, cioè porta a monetizzare. Lui non lo fa, ha lavorato molto sulla viralità, quindi sulla condivisione dei suoi lavori. Però poi quando ha tirato fuori qualche progetto, numericamente ancora non ci siamo. È una cosa che va molto più per e lunga, anche perché adesso si è creato un posizionamento per cui lui non può entrare in certi parametri di ticket, cioè deve fare tutto un altro lavoro. Quindi è un po' complicato. Io mi posiziono invece subito come... cioè parto già da un altro livello, vedete, perché vi dicevo prima, a volte si fa prima e inizia un altro business. Io adesso ho sempre avuto un high ticket, un premium price, cioè nel senso per lavorare con me c'è sempre voluto parecchia ciccia. Poi è ovvio ci sono le promozioni, però diciamo che per assumermi un anno, ragazzi, cioè ci compriamo almeno una bella utilitaria, ce la compriamo e non per assumermi che vengo a lavorare in azienda da voi, ma per avere la mia consulenza una volta settimana via Skype. Detto ciò vediamo cos'ha da dire Francesca Gatto. Io non posso regalarti niente, mannaggia, ma la marchetta la voglio pure io. Uffa. Francesca Gatto, tu cosa vendi? I biberon? Regalami un biberon, vedremo. Se posso farti la marchetta. Sì, dai, compra anche tu i biberon di Francesca Gatto. Mi trovi a Roma. Dove stai? Da quelle parti. Va bene, poi te la faccio. Te la faccio anche impostata all'anni 80. Va bene, ragazzi, abbiamo fatto la nostra mezz'ora. Se avete domande, scrivete. Mi raccomando, ricordatevi, ragazzi, il momento è buono. Non tergiversate, non procrastinate, ok? Dovete assolutamente mettermi nella condizione di sfruttare bene i social oggi, perché il momento è quello giusto, perché primo ti devi ficcare in testa che ci devi mettere grane e ciccia. Non cercare la strategia inversa, oppure non dire aspetto di guadagnare per cui puoi fare. Mettiti là e fallo subito. Risparmi un mese e boom, soldi. Ciao Gino. Come va Gino? Grande Gino, la sua foglia verde. Devi investire adesso. Quindi, ovviamente, partendo dal presupposto di avere un'idea buona, che abbia margine. E bisogna farlo. Ragazzi, bisogna comunicare, bisogna educare, bisogna portare le persone a fidarsi. Oggi il mezzo migliore è assolutamente il social. Certe persone mi dicono, ma Facebook non durerà, sparirà, blibli, bla, bla. Ragazzi, non è così. Come vi ho già detto miliardi di volte, noi ci siamo creati i social. Noi ci siamo creati Facebook. È un'evoluzione di quello che vogliamo. Ci sarà sempre un qualcosa che ci aiuta dal punto di vista virtuale, perché è un'esigenza che è nata dall'uomo, sia il web che i social. Tutto quello che si faceva sul web, dal mandare una mail, si sta trasformando in una relazione che abbiamo con i social. Quindi magari ti mando un messaggio, la pubblicità te la mando tramite social e sta creando un mondo parallelo. Quindi è oggi. Ciao Lara. Grazie a te. Grazie a te. Ragazzi, vi saluto. Ci vediamo in questi giorni, sempre sul pezzo, mi raccomando. Ricordatevi che al 15 c'è Face Fast. Siete iscritti alla mia lista? Tutti quanti? Andate su www.marcodoria.com, ve lo metto anche qua e scaricatevi, fatevi, guardate che bello, gira, non passa, ah sì. Andate sul mio sito, fatevi le tre lezioni gratuite, prendete i tre video gratuiti e entrate in vista, perché lì poi arrivano le comunicazioni, quando devo fare un lancio o qualcosa. Ora c'è Face Fast, che sono i cinque passi per creare velocemente un'inserzione su Facebook che funziona, partendo da livello professionale, quindi dal business manager. Va bene? Non è un corso dove andremo a spaccare il business manager in 300 miliardi di nozioni e andremo a fare un algoritmo che ci va un minimo di esperienza per decifrare, ma facciamo una cosa per cui, ok, comincio a fare questo, comincio a fare soldi da questo e poi parliamo di nozioni avanzate. Va bene ragazzi, vi saluto, andate, che bello, mi piace tantissimo questa cosa, andate sul mio sito, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e occhio alla mail e mi raccomando sempre sul pezzo. Ciao!